Le donne medico hanno voluto in questi anni, nel corso di tutta la loro attività, focalizzarsi proprio sulle differenze di genere in termini di salute, da una parte, ma dall'altra si sono occupate di portare alla luce e di seguire i problemi legati alla salute delle donne anche da un punto di vista della loro situazione sociale, sia perché si fanno carico della salute della famiglia, perché curano i bambini, curano gli anziani, e quindi sia perché sono loro che distribuiscono un po' la salute all'interno della famiglia, la custodiscono, la gestiscono, quindi c'è bisogno di informazione per loro, ma c'è bisogno anche di prendersi cura di loro. Con l'arrivo della pandemia è cambiato il nostro modo di lavorare legato all'emergenza di questo periodo, perché ci siamo resi conto che abbiamo dovuto affrontare una situazione di grave emergenza, abbiamo fermato un po' tutte quelle che sono le nostre attività ordinarie. L'associazione ha offerto a noi il vantaggio della comunicazione e quindi abbiamo avuto la possibilità di confrontarci in tempo reale su quello che stava avvenendo un po' in tutto il paese. Il momento più difficile è stato l'inizio, quando ci siamo trovati un po' spaesati, anche tra di noi, un po' per la paura che avevamo anche noi di poterci ammalare e un po' per l'incertezza di quello che saremmo riusciti a fare. E devo dire che ho visto soprattutto nei più giovani lo sconforto in certi momenti, venire lì e dire ma voi che avete più esperienza perché siete più avanti negli anni, ma non prima è capitata una cosa del genere, ma non possiamo fare qualcosa di più. Ecco, questo è stato forse il momento più triste, più difficile. Il momento più bello lo attendiamo ancora perché il momento più bello sarà quando sarà tutto finito sicuramente, però ci porteremo a casa un bagaglio culturale non piccolo secondo me, è anche umano soprattutto. Alle donne che lavorano in prima linea come medico, che è molto importante perché le donne sanno lavorare, sanno lavorare duro, sono apparse alla ribalta soprattutto gli uomini, forse le donne medico si vedono meno, ma non per questo sono state meno impegnate e si sono date da fare. Forse devono avere più coraggio, emergere di più, perché io credo che le donne abbiano grandi potenzialità, le donne medico lo stanno dimostrando.